Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Lo avete sentito dai titoli, ancora in fiamme il versante montuoso nei pressi del Ponte Riso. Diciamo ancora perché la zona è quella spesso colpita da incendi. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Sentiamo. Un incendio si è sviluppato questa mattina a Ponte Nossa, nella zona del Ponte Riso, lungo il versante montuoso che sovrasta la provinciale della Valseriana. L'allarme è scattato intorno alle 11. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Clusone e i volontari dell'antincendio boschivo della comunità montana, coordinati dalle sale operative della Croce Blu di Gromo e della Croce Verde di Colzate. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di due elicotteri della regione che hanno pescato l'acqua necessaria nel serio in una vasca montata dalla squadra antincendio di Ponte Nossa ai margini della provinciale Pergorno. Oltre ai volontari di Ponte Nossa sono intervenute squadre da Colzate, Gandino e Rovetta, circa 20 uomini in totale. L'apporto dei volontari per ragioni di sicurezza è stato però contenuto. Le fiamme hanno intaccato diversi ettari di sterpaglie e dopo aver raggiunto la cima Frol si sono estese anche all'altro versante. Le operazioni di spegnimento, durate tutta la giornata, non si sono ancora concluse.